Musica Benvenuti all'angolo della poesia e della narrativa A cura di Cefalù Arte con il patrocinio del Cenacolo Letterario Italiano via 25 novembre Oggi non siamo negli studi di Borgetto e nemmeno di Cefalù Siamo a casa del poeta Rosario Maria Vaccarella Allora Rosario intanto grazie per averci ricevuto qui nella tua abitazione Per noi è un grande piacere e un onore Finalmente ci conosciamo Anche perché Rosario Maria Vaccarella ha pubblicato il suo primo libro La sua prima silloge di poesie Che porta come titolo Ricordi, emozioni, poesie e racconti La prefazione di questo volume è stata curata dal presidente del Cenacolo Letterario Italiano Antonio Barracato La postfazione da Davide Schiano E noi siamo qui per parlare di questo libro Intanto grazie Rosario Ma di che è un mio piacere averti qua con noi Perché siamo in un piccolo paese dove gli avvenimenti avvengono di rato Per cui ricevere una visita da parte dei personaggi importanti per me è un grande onore Noi ti ringraziamo caro Rosario Parliamo del libro subito di questa meravigliosa raccolta Una raccolta vera e propria Anche perché il volume contiene molte poesie Che Rosario ha scritto durante la sua giovinezza Fino alle ultime di questo periodo E poi ci sono anche racconti Parlaci un po' di questo libro Come nasce Che cosa ti ha ispirato a pubblicarlo Vabbè non so Io ho sempre in un certo modo scritto poesie Sin dall'età di 18-20 anni ne scrivevo Di fatti alcune che sono in questo libro Risalgono a quella data Soltanto che poi le ho riviste Le ho un po' modificate Perché la maturità mi ha portato anche a correggere i miei errori I miei scritti giovanili Giovanili E a correggere anche i miei errori E quindi In quanto In quanto In quanto vai il racconto Le ho vissute Nell'adolescenza Perché noi Ogni anno Nel mese di maggio Dopo la Madonna dei Miracoli Che è la festa principale Andavamo in campagna E restavamo colà Sino a che non si vendemmiasse Perché in montagna si vendemmi a troppo tardi Non in agosto Ma tra settembre e ottobre E quindi In quel periodo Non so Io Un bambino Vivevo le mie prime esperienze A contatto Non so Con questa meravigliosa natura Che mi ha sempre affascinato E continuo a farlo anche oggi I racconti Non so Sono Proprio imperneate Sulle Emozioni Che io ho provato Da bambino E anche da adolescente Sono argomenti Irripetibili Perché Io Ho compiuto da poco 84 anni E quindi Non le potrò più rivivere Perché l'età dei 15-16 anni Ormai non c'è più C'è quella della maturità Della stanchezza fisica E di qualche preoccupazione Che È giornaliera Non so Non In questi racconti Nomino spesso Mia madre Le mie sorelle Mio padre E i miei fratelli Noi abitavamo in campagna Per sei mesi E allora non c'era nemmeno Una corrente elettrica La sera si scendeva Il lume a petrolio Oppure dopo Con l'acetilene E si vedeva bene Con tutto La luce era Fredda L'etioca Si vedevamo bene Perché era la gioventù Che ci faceva vedere Tante cose Al termine della cena Mio padre Prendeva la chitarra E intonava Non so Le canzoni E una Non so È riportata sul libro E fa così A te non mancheranno Nuovi amori Nuove delizie Un avvenire di fiori Ma nella gioia D'un novello affetto Ricordati del primiero Caro oggetto Rammenta che tamai Quanto Dio Nessù mai tamerà Dell'amor mio Eccetera eccetera Sei abbastanza Sei abbastanza entonato Ma è il dovevo Mia figlia è preso da me Sì Allora Intanto Vorrei leggere La biografia Di Rosario Maria Vaccarella Anche ho dimenticato Una cosa Io mi chiamo Rosario Maria Vaccarella Armando Sì Perché mia madre Non aveva niente da fare Non ci fece Nemmeno la virgola L'ha messo Per Per staccare i nomi E quindi Sono costretto Non so A fermare sempre In questo modo Allora Rosario Maria Vaccarella È nato A Collesano Nel 1937 Diplomato Presso l'istituto magistrale Cosmi di Palermo E ha vinto Un concorso Nel 1969 Giusto? Mi ho vinti due Sì Uno nel 67 Fu idone Non entrare Per mancanza dei posti Non c'erano posti E poi ha insegnato In tanti istituti Sì Primo anno Fu a Termini Merese Dove c'era la direttrice Il Crisafull Che mi voleva Un bene dell'anima Poi Grattere Poi Scellato E definitivamente Grattere Da una vita Ho concluso La mia carriera scolastica Qua A Grattere Dove ho incontrato Dove ho incontrato La mia Dove Il mio grande amore Che Un anno Mia moglie Vinse il concorso E la mandarono A Pergole Provincia Una frazione Di Caccamo E quindi Io non potevo Andarla là E dove ho fatto Lo scambio Consensuale Io andai A Pergole E mia moglie È rimasta a Grattere Adesso Rosario Maria Vaccarella Ci farà ascoltare La prima poesia Chi mi forge Il microfono È L'amore Della mia vita La mia Angela Che ho conosciuto Nel 1969 Durante una Supprenza scolastica Qua a Grattere La poesia Si intitola Tu sei Sei ovunque Lo sei sempre stata Tu sei L'astro lucente Che al mattino Sorge e scalda Tu sei Il motivo Che scioglie La rugiada E che Errora Incerza Tremolo e viole Tu sei La luna Che regola Le acque del mare Tu sei Il rindocco Che annuncia La festa Il passerotto Che cinquant'anno Si posa Sul balcone La faffalla Che mi gira intorno L'onda Che si imprange In riva Profumo Di ginestre A maggio Acqua di ponte Che di sede Purifica Tu sei Il motore Che muove L'universo Tu sei La donna Tanto amata Ma spesso Anche troppo Versata Trucidata Da verve umane Tu sei Tutto La forza Del corpo E della mente Tu sei La bontà L'amore Che illumina La certezza Che sei Sempre con me Tu sei La fede Che mi fa Credere in Dio Io sono Perché tu sei Il mio angelo custode La mia angela La madre Dei miei figli Rosario In tanti scrivono Poesie Ma che cosa è La poesia Per Rosario Maria Vascarella Per me È vita Perché Non Non potendo Relazionarmi Molto Col di fuori Io mi Relaziono Con me stesso Parlo con me stesso E le mie risposte Le do Da me Quindi Per me La poesia È arte È il rifugio È il rimedio Alle mie malinconie In fin dei conti È tutto Adesso Rosario Maria Vascarella Ci farà ascoltare Una seconda poesia Estratta da Ricordi Emozioni Dedicato Ad un pino Annoso pino Che compone Le cime Con gli umori Del cielo Le due fronti Incerte Tremolanti Filtrano Una luce Incerta Quando Da aprile Si scioglono Nevi E si ingrossano I torrenti Baglione Di luce Che l'occhio Vede Brillare Come stelle Onneggiano Al primo Soffio Di brezza Giampettano Uccellini Da un ramo All'altro Cinguettano In vigloria Al creatore Intonando Sode Tra l'erbe Un parlotto Al d'insetti Un coro Refugiero Giunge Ad un ramo E la religiosa Mantide Devota A pregare Le due cime Muovono Un menticello Tiepido Che schiude Le gembe Del mannerlo E le pigne Si aprono A pastorir Semi Desiderosa Pace Immemuta D'azzurro Che a lungo Minata Appare Dipinta D'improvviso Un procuroso Rumore Sfoca Le immagini Guadute Occheggiano Il tuo diritto Fusto Un cavallo D'acciaio Di strade Che senza pena Dalla terra Gemente Che sotto Si può E rossa Poi nera Stramazzano Solo le fronte Dai monchi Rami Resene D'incenso Pianziente Vecchia Trave Se ti portranno Al canto Alla grondaia Ascolterai Il pevolio De passerotti In pena Boccheggiante Per un cibo Che mai Riperà E le manine Tese Di innocente Prole Al cielo Rivolgeranno Preghiere A scongerare La morte Del pianeta Sudrà Tra gli infiniti Un lamento Che correrà Lo nostro sole Ad invocare Pietà Per noi Sfortunati Non ci sarà Più alba Nel tramonto E le api Non voleranno Più di fiori In fiori Uomo Ascolta Non guastare Si prediletta Armonia Assopora Il canto Degli uccelli Il profumo Di un fiore E intorno a te Sentirai Silvane Essenze Bisbiglio D'acque In testa Rosario Che importanza Hanno I sentimenti E le emozioni Nelle tue poesie I sentimenti E le emozioni Sono alla base Della mia vita Perché è un uomo Che non ha sensazione Non è un uomo Cioè è un individuo Non è una persona Per cui Una persona Deve avere Della sensazione Deve avere Non so Anche Anche dei dolori Perché io Mi ricordo Mi ricordo Una volta Qua c'era il professore D'Angelo Grande professore Italiano E gli sottoposi Le mie poesie Ha fatto un commento Bellissimo Che fra l'altro E ha battuto la macchina E io non Non posso esibirlo Come proprio E mi disse così Perché mi dava in lei Caro professore Sono contento Che lei abbia scritto Queste cose E si vede Non so Che c'è Del classico Nelle sue espressioni Però Le do un mio consiglio Spassionato Quando lei è triste Prenda sua moglie E suoi figli E se ne vada A farci una passata Passaggia da Gibleman Perché la poesia È sofferenza E non c'è niente Da aggiungere Perché con queste parole Dico Che la poesia È sofferenza Sulla quale Si imperne E anche la gioia Ascoltiamo un'altra poesia Estratta da Ricordi Emozioni Dolce del richiamo L'appuntamento Ultimo squarcio Di luce Poi la notte Silenziose Tenebre Vono di fantasme Di sogni E di ogni sera Questa dolce Il richiamo Attendo Che l'ultima luce Si sia spenta Poi mi avviva Quanto è L'appuntamento È la natura Che mi attende Che mi chiama Che offre spettacoli Voluti e diretti Da un ottimo regista In questa immensità Di spazi Unico Quello che sente Ancora la gioia Di mirarsi Sono io Anche la notte Ha i suoi colori E le sue musiche I suoi dolci silenzi Vi accludere Ecco ciò che scende in me Quando ammira 200 milioni di occhi Resto qua là Finché non trovo Di due per giorno Pago Di tanta Infinita bellezza Ascoltiamo Un'altra poesia Estratta da Ricordi Emozioni Lettera di un figlio Devoto alla tua madre A me sovviene Il levandale Di quegli anni Belli La tua voce Il tuo profumo Il tuo seno Che accorse Il mio capo Fanciulla Ricordo il tuo sguardo A volte carratevole Spesso Inflessibile Quando intendevi Punire le mie Parachelle E quelle lettere Che mi scrivevi E concludevi Ti do la mia Benedizione Oggi capisco Che Le tue parole Ero un invito E un monito Ad agire Temporalmente Tu Cristallo Traslucido Hai Redato Sempre La tua Luce Sulla mia Vita Che Valli Pianto Dalle partite Non troffa Più Mamma Mamma Quel fil di luce Che tu lasciavi A che il bue Non mi portasse pena Si è spento Che gelo Mamma Nella nostra casa Che dirti di lui Gli manchi Ricordo Quando freggiava Il petto Del suo grande vanto E il fresco serotino Dei giorni alla montagna Sento ancora Il suo racconto Sempre Regressevole Mai noioso Perché di pace Ragionava E darmi E d'eroismo Imbareggiabile La vita E sacrificio Mamma Non più Delizie tue Voglio Ricordare La tua bellezza Senza età Radiosa E illuminante Quando Nell'infinito Eterno Eterio Incontrerai Il mio papà Digli Che glielo Ho voluto Tanto bene Spero Quello Il giorno Del giudizio Universale Tu risorga Con l'aureola Sul capo Per essere Elevata Agli onore Degli altari Con il trascorrere Gli anni Chissà Se i miei figli Proveranno La gioia Di scrivere Una lettera A loro papà Grazie Mamma Guidi i miei passi E veglia Sulla mia famiglia Prima Di chiudere Io vorrei Invitare Il presidente Del cenacolo Letterario italiano Antonio Barracato Perché Dovrà Consegnarti Un riconoscimento Prego Antonio E allora Caro Rosario È stato un piacere Oggi Essere venuto A casa tua E quindi Averci incontrato Perché ci siamo sentiti Fino adesso Sempre per telefono E prima Di consegnarti Il riconoscimento Che hai ottenuto Al sesto concorso Internazionale Di poesia E narrativa Voglio leggere Voglio leggere Due tratti Da far percepire Alle moderne Generazioni Questo appunto È un tratto Dove tu esterni La tua diversità Tra il mondo passato E quello di oggi Che purtroppo È confezionato In una economia globale Che sta divorando L'umanità E poi Nel tratto finale A chi legge Con attenzione Questa Sua opera Non potranno Sfuggire L'eleganza E la raffinatezza Nel modo Di esprimersi Ricamato Su un tessuto Linguistico Semplice Ma ricco Di grandi Sentimenti La sua sofferenza E i suoi ricordi Spinte dalla forza Narrativa Sanno regalarci Tanti momenti Della vita passata Anche Anagraficamente Vicini Paradossalmente Diventati lontani Perché quando Perché quasi Cancellati Da una moderna Società Legata al capitalismo Esasperato Capace di disperdere Ogni vero Valore Complimenti Carissimo Rosario E passiamo A un altro Adempimento Importante Quindi io Come presidente Del premio Città di Cefalù Che ho piacere Di rappresentare E di Svolgere Ogni anno Nella mia città Che adesso Assunto Una valenza A livello internazionale Figurati che quest'anno Hanno partecipato 400 Letterati Scrittori e poeti Con 800 Overe E tu Nella tua sezione Hai ricevuto Una targa Un encomio In onore Rosario Vaccarella Nella sezione B Poesia in lingua Con l'opera La dama Bianca Facciamolo vedere No più bassa No più bassa Si vede La telecamera Facciamo vedere Complimenti Rosario Per questo Tuo Traguardo Che Non c'è Da per prendere Riconoscimenti E quant'altro Complimenti Grazie Grazie Di tutto ciò Che avete fatto Per me Sono orgoglioso Di avervi incontrato Veramente E anche felici È stato un piacere Quindi adesso saluto L'amico Rosario E speriamo Alla prossima Edizione Alla prossima Alla prossima Bene Siamo arrivati Al termine Della puntata Dell'angolo Della poesia Qui a Grattieri A casa Del poeta Rosario Maria Vaccarella Rosario Io ti ringrazio Per averci Ospitato Qui nella tua Abitazione Ci hai emozionato Recitando Le tue bellissime Poesie Ti chiedo di continuare A scrivere Continuando A regalarci Grandi Emozioni E anche A pubblicare Qualche nuova Sillogia di poesie Grazie Rosario E vabbè Io ho scritto Un po' di cose In questo periodo C'è la speranza Che io possa pubblicare Un nuovo libro Però Se non termina Questa 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 calura Che mi opprime Terribilmente Io non scrivo Niente Però Ho già iscritto Ho scritto Perché è una Teoria indiana Che sta partecipando A un concorso E tra l'altro Stasera Sei stato pure premiato Dal Presidente Io ringrazio Ringrazio Antonio Prima per La prefazione Che ha fatto Il libro Che ha proprio Individuato I punti debole Anche della mia Personalità È stato Molto bravo E anche In un certo senso Psicologo Grazie Antonio E grazie a te Che mi curi In continuazione Antonio è un po' Restivo Cioè parla poco Tu invece Sì che è chiaro Sì anche perché Noi abbiamo Un buon rapporto Di amicizia Io ti ringrazio Ancora una volta Siamo vaccinati Entrambi E quindi ti do Anche un bacio Grazie 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 di cuore E noi ci rivediamo In una nuova E prossima puntata Guannarre Frida Guannarre Frida Dice Rosario Valcarella In una nuova E prossima puntata Grazie a tutti